Stefano De Martino forse ha una nuova fidanzata. Così almeno si ipotizza ogni volta che il conduttore attualmente al timone di, Affari Tuoi, viene beccato in compagnia di una donna. Questa volta a fare lo scoop, è il settimanale, Diva e Donna, che ha paparazzato l'ex ballerino nel corso di una recente breve tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Stefano De Martino non è solo, con lui prima di tutto c'è il figlio Santiago, insieme ad alcuni amici del conduttore. Ma in un altro scatto ecco spuntare una misteriosa bionda, intenta a fissare il cellulare mentre lui si guarda intorno e le accarezza una spalla. Secondo quanto si legge sul settimanale, tra i due sarebbe, scattata l'intesa, anche se forse è presto per parlare di una storia. Stefano De Martino è il rumor di una nuova fidanzata ma la sua priorità è il figlio. Stefano De Martino, dopo la separazione da Belen Rodriguez, è molto attento a tenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Circa un anno fa il settimanale, chi, aveva avanzato l'ipotesi di una relazione con Martina Trivelli, ma la storia non ebbe seguito. Questo è un momento d'oro per il conduttore, nuovo volto dell'intrattenimento Rai. I suoi impegni professionali assorbono la maggior parte del suo tempo e quello che resta lo dedica al figlio, come ha dichiarato nell'intervista a, Cinque minuti, di Bruno Vespa. Non c'è tempo quindi per l'amore. L'ex ballerino è concentrato sul figlio che, sta crescendo e ha sempre più bisogno di me. Dal lunedì al mercoledì, sono disposto anche a fare i doppi turni, infatti registriamo tantissime puntate al giorno, così nel weekend posso tornare da lui. Il debutto dell'ex ballerino di, Amici, sembra essere andato bene, e, anche se Aldo Grasso lo ha stroncato, al pubblico piace. Stefano De Martino ha aiutato il figlio Santiago a traslocare nella nuova casa. Tra Stefano De Martino e l'ex moglie Belen Rodriguez, che ha ritrovato la serenità grazie alla relazione con l'ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano, sembra scoppiata la pace. Un scelta dettata anche e soprattutto dall'amore che entrambi provano per il figlio Santiago che si avvicina al periodo delicato dell'adolescenza. In questi giorni la showgirl argentina sta traslocando nella sua nuova casa a Milano, e con lei anche i figli. Santiago ha ormai 11 anni e la presenza del padre per lui diventa ogni giorno più importante. Stefano De Martino fa di tutto per fargli sentire la sua presenza ed è rimasto al suo fianco anche nel momento difficile del trasloco. Il conduttore ha aiutato il figlio e l'ex moglie a portare pacchi, scatole e valigie varie, dalla vecchia alla nuova casa come si vede da alcuni scatti pubblicati dal settimanale, Nella nuova casa di Belen Rodriguez ad attenderli c'è anche Veronica Cozzani, nonna materna di Santiago.